Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale Banco Verito Beans. Stasera, come vi avevo promesso, parlerò di come si redige un resumé, quindi il curriculum. Comunque noi lo chiamiamo curriculum, però qui si chiama resumé. Finalmente ho resumato la mia mini su sfondo. Mi piaceva di più perché l'altra volta, quando ho fatto il video, non c'era mini su sfondo. Mi piaceva, quindi abbiamo mini stasera e sono contenta. Insolta questa piccola parentesi, vi farei vedere come ho fatto il resumé. Allora, c'è da dire che io il resumé me lo sono fatta correggere alla scuola. Perché io quando andavo a scuola ho una responsabile che si occupa di aiutarti a inserirti nel mondo del lavoro e quindi a redigere un curriculum, come affrontare i colloqui nell'inglese con quelle interview. Ed ecco perché io adesso so rispondere bene o male alle domande dei colloqui. ed ecco perché ho un decente resumé. Non dico che è uno dei più belli e perfetti, perché non lo è. Però questo formato di resumé mi ha aiutato e quindi vorrei condividerlo con voi. C'è da dire che qui il resumé è molto molto personale. Quindi più lo personalizzate ed è diverso dagli altri, più avete possibilità di essere notati dal datore di lavoro. Dovete sapere che il resumé, adesso ve lo faccio vedere, questo è il mio resumé. Ovviamente ho coperto i miei dati personali, però spero che si veda. Ecco, allora il mio resumé, come potete vedere, si presenta semplice e pulito. Perché il resumé qui in Canada deve presentarsi semplice e pulito. Cosa non va messo sul resumé? La vostra data di nascita. Quindi no. No la vostra foto. No l'indirizzo di casa. E no la vostra situazione sentimentale. No se avete figli, niente. No, queste sono cose personali. Nismo. Quello che dovete mettere, ed è ok nel resumé, è ovviamente sopra, qui, all'inizio, il vostro nome e cognome. Questo va bene. Poi, l'area dove più o meno vivete, quindi che ne so, città, mettete Vancouver. Io ho messo Vancouver perché io sono a Vancouver. Ma non ho specificato North Vancouver. Perché se ho specificato North Vancouver, darei un dato troppo sensibile. Quindi è sempre meglio mettere in generale la città Vancouver. Non mettete Burnaby, non mettete Vancouver. Vancouver. Perché comunque Burnaby, New West, sono comunque aree di Vancouver. Quindi mettete Vancouver. Vancouver. Non specificate mai l'area. Mai. Mai. Poi, il vostro numero di telefono, ovviamente, e la vostra e-mail. In questa riga qua. Deve essere tutto nella stessa riga. Così è più facilmente leggibile. C'è un'altra cosa che volevo dirvi che è importante. Nei resumé, come potete vedere, io uso il colore rosso. A parte che il rosso è il mio colore preferito e il rosso è un colore che per me mi identifica. Quindi, se io uso i colori così sul resumé, il mio resumé su 100 applicazioni viene notato prima. Perché? Perché io uso i colori. Se voi usate tutto tinta unita, il vostro resumé, il 99% dei casi verrà accessinato. Perchè per il datore di oro sarà uno dei tanti. Quindi, io vi suggerisco di usare un colore che vi rappresenti. Ovviamente non dovete fare il dipinto di Picasso, però un po' di colore ci sta. Poi, adesso passiamo alla seconda parte del resumé, che sarebbe Professional Summary. Che cos'è il Professional Summary? Allora, questo qui è veramente importante. Perché qui, nel vostro Professional Summary, dovete mettere, proprio in massimo quattro righe, il riassunto della vostra professione, delle vostre qualità, di chi siete. Perché questo qui è un pezzo molto importante, perché è un biglietto da visita e un'introduzione a chi siete. Questa cosa qui è molto importante perché i datori di lavoro la leggo. Vogliono sapere chi siete, no? Ovviamente. Perché sì, ok, va bene mettere delle esperienze lavorative, ma se non mettete un riassunto di voi stessi, il dettore di lavoro dice, ma chi sono questi? Chi è? Allora, io, nel mio caso, io sono una barista. Io mi definisco una barista. Quindi ho scritto che sono una barista con un eccellente costume e service e che sono abituata a lavorare in un ambiente dove devi essere veloce. Poi ho detto che so lavorare bene in team e che cerco una posizione che mi permetta di imparare nuove skills e ottenere più esperienza. E poi ho aggiunto che sono molto motivata e un hardworking, perché questi sono gli aggettivi che più mi descrivono. Se voi avete notato, nella mia descrizione, ho usato i paroloni delle cose eccezionali, degli aggettivi proprio grandi. Quindi, perché se voi utilizzate degli aggettivi grandiosi, tipo great skills in customer service, great excellent customer service, Usando excellent, voi attirate l'attenzione del datore di lavoro. Quindi usate sempre aggettivi tipo excellent, great, professional, dedicated, hardworking, piace tantissimo, self-motivated, usatela tanto. Mi piace anche, ah no, questo ve lo dirò più tardi, scusate. Comunque, qui nella descrizione ricordatevi di fare il riassunto delle vostre skills e delle vostre migliori qualità. Io vi lascio anche, così lo vedete, no? Cosa ho scritto è, yeah, sì, vabbè, dall'altra parte comunque spero che voi riusciate a leggere. Perché non vorrei fare un video di tre ore. Poi, cosa ho messo? Work history, cioè le mie esperienze lavorative. Allora, anche qui. Se voi vi candidate per una posizione da barista, dovete mettere le esperienze che sono legate al caffè. Io ho comunque customer service. Io ho messo l'esperienza che ho fatto da caffè artigiano e l'esperienza che ho fatto in gelateria. Perché comunque sono collegate. E quindi ho scritto bene cosa facevo. Quindi ho scritto So, take orders and prepare hot drinks and ice drinks. Ok, quello che facciamo. Poi ho detto. Maintain safe and health work environment by following organizations, standards and sanitation regulations. Cost and coffee testing to ensure consistency, ensure opening, closing and prepare duties are completed each day. So, ho scritto più o meno quello che c'è, che pulivo, che facevo i drinks. E dovete scriverlo così, proprio a elenco. Mi raccomando, non mettete più, più di cinque pallini. Per favore, non più di cinque pallini. Teoricamente, come mi aveva detto a scuola la mia responsabile del co-op, mi aveva detto uno più di tre barra quattro. Mi ha aggiunto uno. Però mi ha detto, vabbè, it's fine. Ok, comunque va bene. Però, mettete, come avete notato, io ho usato delle frasi con periodi corti. Corti, assolutamente periodi e frasi corti. Non fate il poema all'italiana, perché il datore di lavoro si stanca a leggere queste cose qua. Quindi, io mi rendo conto che cinque pallini sono forse di più, però è vero che sono cinque, però è anche vero che ho utilizzato delle frasi corte, periodi corti. Quindi, la mia responsabile ha detto va bene. Poi, per la gelateria ne ho usati quattro. Anche qui, periodi corti, precisi e concisi, semplici. Quello che facevate, che ne so, come l'ho scritto io, serve gelato and sure proper scooping all the time. Questo facevo, quindi ho detto, io non sono stata lì a dire il procedimento. Allora, ho scelto frasi corti, corte e concise. Poi, cosa ho fatto? Allora, io ho fatto la ragazza da pari a New York e a Squamish. Io ho combinato le due esperienze in uno, cioè due pallini. Vedete come ho risparmiato tempo e anche frasi. Io ho in due pallini e ho detto quello che facevo. Quindi ho messo New York e Vancouver. Così ho ridotto all'osso quello che ho fatto. E non ho sprecato troppe pagine, troppe parole per scrivere cosa facevo. Poi, passiamo alla seconda pagina. Un'altra cosa bellissima che dovete sapere, qui in Canada, è che se voi avete mai fatto volontariato, dovete assolutamente metterlo nel vostro resume. Perché? Perché chi fa volontariato qui è ben visto dalle aziende. E io per questa esperienza di tre anni, quattro, in Italia come volontariato ho avuto molte più chance di essere assunta rispetto a chi non ha un'esperienza di volontariato. Con questo non voglio dire che chi non fa volontariato non verrà mai assunto, però chi ha un'esperienza di volontariato sicuramente ha una marcia in più di chi non ce l'ha. Ecco, diciamo. E poi, specialmente, se voi non avete tanta esperienza, un'esperienza di volontariato può aiutarvi ad avere più punti nella vostra interview, che è molto importante. Poi, un'altra cosa importantissima da mettere sono le skills, quindi le vostre qualità. Allora, e qui, anche qui, aggettivi forti dovete usare. Adesso ve ne faccio un esempio, giusto qualcuno. Allora io ho detto, strongly supportive. Cioè, io sono una persona molto, che supporta gli altri, quindi io sono una persona che aiuta gli altri. Non se ne stacco le mani in mano, intonate. Poi, teamwork, perché io so lavorare in team. Flexible schedule, cioè per me, io sono molto flexible con gli orari, quindi ho messo flexible schedule. Ho messo excellent customer service, vedete, ho usato excellent. Ho poi usato people oriented, perché io so creare relazioni con le persone. E self motivated, perché io sono una persona molto motivata e determinata, quindi l'ho messo. E hard working. Quindi, come già vi ho detto, questi qua sono dei piccoli esempi per farvi capire cosa dovete mettere. E quindi mettete il più possibile delle cose, questi aggettivi forti. Scusate, li sto ripetendo 10.000 volte la stessa cosa. Comunque, dovete utilizzare assolutamente gli aggettivi, perché sono importanti. Se non avete gli aggettivi, nelle vostre skills, non è così bello da vedere. Non è un curriculum interessante. Ecco, mi hanno sempre detto questo. Poi, ho messo l'education, quindi dove ho studiato. Io ho fatto hospitality management, quindi ho messo la scuola, la data. E poi ho messo, ovviamente, le scuole superiori che ho fatto, perché io ho fatto le scuole superiori e non ho fatto l'università. Però ho fatto il collegio, quello canadese, l'ho messo. Poi, extra, cosa importantissima, le vostre certificazioni che avete preso. Allora, con le certificazioni io intendo food safe, food safe, perché è importante. Se voi lavorate in un bar e voi gestite, dovete servire cibo o comunque drinks, dovete avere i food safe, che si fa qui in Canada. Se non avete questo, voi non potete lavorare come barista e neanche nei ristoranti o altri posti dovete avere questo qui. Poi, io ho fatto negli Stati Uniti first aid e l'ho fatto perché dovevo lavorare con i bambini e quindi dovevo essere in grado di soccorrere i bambini. E poi, vabbè, ho messo l'IELTS certificate perché avevo fatto l'esame dell'IELTS, quello accademico, per entrare a scuola, però non l'ho più usato, però l'avevo dato due anni fa. E poi, ho messo il certificato che ho preso come operatore turistico a Torino, anche se magari non può interessare tantissimo, però l'ho messo. E poi, come ultimo, le referenze. Quindi, le referenze possono essere un vostro datore di lavoro oppure una vostra collega. Io ho messo la mia ex collega di lavoro e il mio ex datore di lavoro. Potete mettere anche gli insegnanti. Io avevo anche il mio insegnante, però vi ho detto, vabbè, non ho più tanti rapporti con lui, quindi ho tolto il numero del mio insegnante. Questo è quello che volevo dirvi per quanto riguarda le resume. Allora, il resume, come vedete, io ve lo faccio vedere così, così lo vedete, devono essere, massimo, due pagine. Ho una pagina. Il mio è una pagina, perché io potrei anche farlo stamparlo fronte-retro, ma questo qui non è stampato fronte-retro, perché l'ho usato come esempio per farlo vedere a voi, ma questo qui è un resume da una pagina. Pronto-retro. Bene. Allora, finiamo di dire tutto quello che c'è da dire sui resume. Allora, io quello che c'è da dire vi ho detto quasi tutto. Un'altra cosa che è importantissima che dovete sapere è che prima di mettere delle referenze dovete chiedere alla persona di cui volete la referenza se è d'accordo che voi mettete il suo nome e cognome nel vostro resume e anche il numero di telefono, perché ci sono delle persone che magari non sono tanto contente se le mettete nel resume senza chiedere loro se hanno piacere di darti delle referenze. Io prima di mettere il nome della mia collega e il nome del mio datore di lavoro sono andata a chiedere a loro avete piacere di darmi referenze se applico per un altro lavoro? Allora, mi hanno detto sì. Un'altra cosa, come vi ho detto, sì, il resume deve essere non più di due pagine, non fate più di due pagine perché altrimenti il vostro resume viene cestinato. Il best per me è una pagina, fronte e retro, quello è il best, secondo me, perché loro lo leggono velocemente, vedono chi siete ed è più facile da leggere perché il resume deve essere di assuntivo, veloce da leggere, semplice da leggere, perché non deve essere difficoltoso, perché se già vedono che è una giungla, cestinano. Un'altra cosa extra importante, mi raccomando, mi sto vedendo in inglese, cercate di essere sicuri che non ci siano errori di grammatica, piuttosto mettete il correttore automatico, ma non fate errori nel resume perché non è una bella cosa da vedere. Mi spiace, no. Un'altra cosa, non è necessario mettere le lingue che parlate, assolutamente, perché a loro non interessa. Un'altra cosa, non mettete... No, aspettate. Si può mettere anche la availability, quindi se volete lavorare part-time o full-time. Inoltre c'è un'altra cosa bella e carina, da resume. Mettere i vostri hobby. Strano ma vero, ma gli hobby, per resume, vanno bene. Io non li ho messi per scelta, perché sono optional. Potete mettere i hobby come no, nessuno vi verrà mai a dire no, è sbagliato, però gli hobby possono fare, perché molto spesso, questo me l'ho dimenticata di dirvelo. Nei colloqui magari possono anche chiedere quali sono i vostri hobby. Qualche volta me l'hanno chiesto. Oppure qual è la cosa che ti passera di più in questo momento. Ve lo potrebbero chiedere. Non capita spesso, però qualche volta potrebbe capitare. Che altro dire? Ah, ieri di sera mi hanno dimenticata. Questo non c'entra niente con resume, però c'entra con i colloqui. Molto spesso i datori di lavoro vi chiedono volete lavorare part-time o full-time? In Italia noi siamo abituati che se dici part-time automaticamente il datore di lavoro pensa che tu non voglia lavorare. qui non è così. Non è così. Guardatemi bene, non è così. Io ci ho messo ben tre anni a capire che dire voglio lavorare part-time non è shame. Ecco, non è shame. E non vuol dire che non vuoi lavorare. Allora, io parlo per mia esperienza. Se tu dici voglio lavorare part-time devi motivare perché vuoi lavorare part-time. Se voi volete lavorare part-time io vi consiglio di dire sempre perché sei più flessibile che poi alla fine è vero. io ho lavorato sia part-time che full-time anzi io sto lavorando part-time adesso e quando lavoro in full-time ho notato vabbè, allora posso dirlo chiaramente allora io ho un lavoro a minimo wage e guadagno anche le mance quindi mi son detta ok, proviamo a lavorare full-time ho lavorato full-time e nel suo lavoro io lavoravo sempre tutte le mattine aprivo il bar poi mi sono resa conto che la differenza di di quello che guadagniamo full-time e di quello che guadagno adesso part-time la differenza è veramente minima e allora lì mi sono venuti gli smadonnamenti perché ho detto sono più scema io che lavoro full-time perché poi dovete contare anche che io guadagnavo le tips quindi guadagnando le tips lavorare full-time in un coffee shop a minimo wage no 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 perché perché è più è più stancante è più stressante e poi dici tanto se devo guadagnare la stessa cosa che guadagno full-time faccio il part-time e io ho scelto di lavorare part-time adesso e io sono una persona che adora il part-time quindi io consiglierei a tutti di lavorare part-time perché part-time vuol dire essere flessibili e quindi se la mia manager mi dice ti va di fare 4 ore questo giorno ti va di queste quattro ore in più ti va sì vai e lo fai però hai sei più flessibile e oltre a questa cosa qui la mia manager mi adora di più perché io quando ho detto che volevo il part-time lei prima mi ha chiesto perché e io gli ho spiegato perché sono più flessibile e poi mi ha chiesto richiedi delle ore in particolari no io gli ho detto io non richiedo un certo numero di ore sono flessibile anche con le ore e lei mi ha detto le ore che prendi prendi ha detto sì le ore che prendo prendo e lei mi ha detto questo aiuta tantissimo ecco perché dico che in questi lavori così come barista o comunque nei ristoranti o comunque in generale in hospitality io suggerisco il part-time poi dipende dalle esigenze di ognuno ripeto dipende sempre dalle esigenze di ognuno non dico che lavorare full-time ma schifo però io io mi trovo meglio con con un part-time e ovviamente non questa cosa non si può applicare su tutti i tipi di lavoro però se tu hai un lavoro dove guadagni anche le mance un part-time un part-time si può fare anche perché io sono andata a scuola e lavoravo part-time poi con le mance diciamo che me la cavavo me la cavavo quindi quindi mi sento di consigliare questo poi ognuno è libero di fare sempre ovviamente quello che vuole è solo un suggerimento il mio e bene io direi che con oggi ho finito e ci vedremo con un nuovo video adesso non so quando però vi farò un altro video sicuramente magari sull'inglese perché già ce l'avevo in mente di farlo quindi magari anche quello sull'inglese ciao ragazzi grazie a tutti